quando l'uso della nanotecnologia diventa continuativo quindi quando l'utilizzo comincia a essere 24 ore su 24 è ora di passare a una fissazione avanzata per il dispositivo una membrana realizzata direttamente da noi top edge skin una seconda pelle per la nanotecnologia all'interno troverete i cerotti skin e ora vi faccio vedere qual è il loro utilizzo c'è un'apertura facilitata per estrarre la membrana la membrana è composta di diversi strati che ne facilitano l'applicazione la prima cosa che faremo è aprirla delicatamente e togliere la linguetta più grande a questo punto proprio dove c'è la banda verde possiamo posizionare al centro la nanotecnologia adesso senza mai rimuovere le dita da questa parte non adesiva lo andiamo a applicare direttamente sulla cute ecco che vado a posizionare il dispositivo direttamente sul punto scelto con un leggero picchiettamento e dopo l'adesione della prima parte sollevo e vado a rimuovere la seconda linguetta sarebbe l'ideale quello di attendere una trentina di secondi che cominci l'adesione prima di rimuovere lo strato protettivo eccoci qua qui c'è una fessurazione basta andare a rimuovere la protezione ecco top edge skin come vedete una seconda pelle trasparente che resiste all'acqua al sudore ideale per portare il dispositivo continuativamente top edge skin può stare sulla cute direttamente anche quattro giorni attenzione la rimozione dello skin non va fatta tirando come negli altri cerotti questa è una membrana molto delicata che un grande potere adesivo esiste però un modo ideale per rimuovere che quello di strecciarlo lateralmente per fare questo sarà sufficiente sollevare un qualunque angolino una volta sollevato l'angolino streccio lateralmente vedete tirando lateralmente questa membrana perde adesività e quindi rispetta in pieno la cute una volta rimossa streccio ancora leggermente e ho il mio dispositivo senza nessun residuo di colla e la pelle perfettamente intatta dove va bene e dove non va bene top edge skin top edge skin non va bene assolutamente nei punti di piega proprio perché avendo un'elevata adesività ma perde l'adesività abbiamo detto strecciandolo lateralmente se voi utilizzate di mantenimento dei punti di piega come questo sarà molto facile per il cerotto perdere la sua adesività in questo caso nel caso dovessi trattare ad esempio meridiano del pericardio o del polmone o del cuore non sceglierò mai la piega del polso ma mi sposterò su dei punti del braccio per pericardio possiamo scegliere ad esempio il 6 in questo punto per ricardio 6 che non è sottoposto a tutto questo tipo di trazione il top edge skin reggerà anche una settimana intera senza nessun problema rivediamo bene la rimozione dello skin non andrò a tirare ma semplicemente andrò a sollevare un angolino e una volta sollevato l'angolino comincerò con lo stretching laterale stretching laterale meglio ancora se potete supportarvi anche con un altro con un altro dito un semplice stretch vedete come perde adesività e tu non senti niente giusto è totalmente easy la rimozione tolgo stretch lateralmente ancora ottengo il dispositivo pulito perfetto senza residui di colla stessa cosa per la pelle del paziente che che sarà perfetta